Ciao ragazzi, oggi vi parlo di T.E.C. Tartufi, che si trova ad Acqualagna, che è praticamente la capitale del tartufo nella provincia di Pesaro Urpino. T.E.C. lavora con impegno e energia proprio per trasferire i valori e caratteristiche di un'eccellenza del territorio, ovvero del tartufo. Infatti, uno dei suoi brand è appunto questo di qua, Terre Nobili, dove appunto vi è una vasta tipologia di tartufo che comunque può essere usato i tartufi in salamo, in olio, le salse pronte, le creme in purezza, i congelati, la dispensa. Ovviamente tutto è tartufabile. Quindi vi faccio vedere di cosa mi ha omaggiato questa scatola. Allora, abbiamo questo di qua, è il condimento a base di burro con tartufo estivo. Questo fantastico, una delle mie ricette lo proverò. che è questo di qua, è a base di funghi con tartufo estivo. Buonissimo! Poi abbiamo questo di qua, che è il sale con tartufo estivo. Fantastico, vedete pezzetti di tartufo all'interno. Poi abbiamo questo di qua, che è la salsa con tartufo bianco. Fantastico, anche questa è una super ricettina. Infine abbiamo questa di qua, che è la crema di tartufo estivo. Questo fantastico, anche per fare degli antipastini. Ecco qui, vi farò vedere tutto nel post. Ringrazio appunto l'azienda T.E.C. Tartufi, direttamente da Acqualagna, in provincia di Pesaro Urbino. Grazie mille. Grazie mille.